Una spropositata concentrazione di tasse vedranno assillare imprese e contribuenti da adesso fino alla fine di novembre, il solito salasso stagionale che il governo potrebbe evitare diluendo al massimo le pendenze. Ne abbiamo parlato con l'economista Gianni Lepre. Da qui a novembre c'è una grande concentrazione di pagamenti, di imposte e tasse che sicuramente assilleranno imprese e contribuenti. Ebbene c'è bisogno di un intervento energico del governo che cerchi di diluire il più possibile questi pagamenti. Ne va della sopravvivenza di tante nostre imprese, di tanti lavoratori che rischiano il licenziamento. Siamo in un momento di ripresa economica, addirittura si parla di un PIL a più 7%, gli italiani si sono rimboccati le maniche, lo Stato faccia lo stesso facendo il proprio dovere.